Quello delle statue l'avevano preso? Quello che le statue aveva la porticina? Quello che aveva la porticina? Aspetta, aspetta Sai che li hanno buttato tutti dalla stessa parte, hanno fatto la scossa, quella roba là L'avevano presa, eh? Sì, sì, l'avevano presa No, non l'avevano presa, basta, è finita Ah, sì? Posso uccidere il boss Yeah, già finita Anche se mi sa che non abbiamo fatto tutti i giochi, tutti i minigiochi Eh, vabbè Se ci siamo ancora, troviamo Comunque Comunque Ciao a tutti ragazzi, io sono Eric Io sono Amai Abbiamo fatto tutto, anche se Giulia doveva essere fuori dalla camera Ah, beh Sì Siamo stati stupiti e non abbiamo raccolto una volta Quindi, sì E dove, ok, siete bastanti No, sono attunzatamente a caso, però Ok Yeeey Oh, il regno di Tadeo Eh, la la Madonna mia Il lusso Qui Uh, ti gioco, ti gioco Ti gioco, ti gioco Andiamo a giocare a bowling Andiamo a giocare a bowling subito Sì Andiamo a giocare a bowling Non mi sembra tanto bowling Cosa puoi dire? Eh Oh, che bello Adesso Ok Beh Non è che mi si è piaciuto tanto con i bowling Però Eh beh, l'importante è fare un po' di monete strano Hai buttato la luna Prima puntava al sole Sì Poi O buongiorno salve a tutti mi suicido ah buongiorno oh ci stanno facendo stare mi hanno lanciato mia strada oddio che me l'ho fatto ahhh hai mai giocato a bowling cosa? guarda qua BAM ma che cazzo ehm no mi sono morti eccomi aspetta aspetta mi sembrava che qua ci fosse no scherza prego vai aspetta aspetta condottore all'indietro si si tutto il tempo che vuoi no vai diventa super saiyan onda energetica ma si dice un po' il resto uuuh io non posso saltare tanto ciao bugs ciao ah 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 attenzione eh senza morire questo salta uuuuh uuuuh ci ha accanto poco molto poco no dai aspettando uuuuuh per te devo fare un concentrato in multiplo ok eeeh trallallero e trallallero vai no no wow eeeh devi buttarmi quasi 90% eeeh 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 immagino che non sia niente immagino che non sia niente immagino che non sia niente ok eeeh 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 uuuuh son sopravviso domani son sopravviso domani son sopravviso domani oddio vediamo se potremmo che possa aiutarci buono ah che bello facciamo cosa può essere difficile eh ah me lo fai solo così a caso ok ok quello se no poi barile aspetta proviamo a avere una vinili sopra cioè vai sopra ok fino a qui ci siamo ah ok devo andare quello lì e quello lì a posto molto difficile uuuuh uuuuh oh no piattaformi nooo questo gioco è di alta forma non vanno bene insieme io sono giunto bloccato niente io ho già fatto eh ok vai io non so soltare l'alto comitato eh io ho tentato mangiare l'alto ok uuuuh guarda quante belle cose ho finito ma si hai pulito la bocca tanz no schifoso l'ho mangiata poi ho spostato oi ma scusa ti ho morso giuro che ti ho morso giuro saluto saluto stara bene ma che fu andiamo giù piano piano ma se dove si qui sono saliti eh forse per me se dovessi scommettere da solo così per darti i barili e basta eh ma tipo dove ehm siamo usciti dalla grotta no? si proviamo a tornare giù perchè non vedo niente qua sotto oh vai giù piano piano mi saluti se te lo voglio e eh eh ma dopo lo specchio eh boh perchè se ti do lo specchio non eh sono bloccato aspetta beh dammi il prof. te perchè non sono ancora morto quindi sono da qualche parte ok eh ancora da questa parte esatto beh prendiamo indietro se non fa il culo guarda che sono andata da lì là come qua sei là vai lì perchè non so se è troppo lontano 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 mmm no secondo arco sotto si si vai no si perfetto perfetto ah per niente si tornano indietro da mano qua si 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 aspetta però si deve essere qualcosa con quella cosa lì che non che ci sfugge ma si dai fa niente non c'è più non c'è più dai niente vieni vieni ma perchè c'è la porta aperta adesso secondo me quale porta aperta no c'è ancora niente perchè quella lì è una porta che non ha aprita in qualche modo non c'è più se lo faremo un'altra volta se lo faremo un'altra volta quando saremo più maturi ah son morto son morto son morto eh stai dimmi la mia foto si vada portare grazie un teic 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 che cosa sabes allora vai tu il rischio di saltare insieme attenzione cè si si infatti oh! che cazzo sei tu? oddio, odio. oddio gli andiamo a mandarlo appunto qua o gesù questo un perfetto tensione muore così adiós amico c'è un altro o perché la sfida la bella e la vince ok questo è il sconto epico lo salto insieme tipo proprio il rischio è il verismo del mondo del male e poi? è il mondo di Taddeo è infatti questo non è un mondo perché Taddeo è un lavaggio se dovessi scommettere c'è un anche qua a destra anzi è un Acme secondo me 25 meno male che hai scommesso siamo nel punto più cattivo del mondo da FIAC mi chiede il mondo di Taddeo 2 2 2 2 2 3 4 sono diventato africano 6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 così io capissimo diritto no 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 non morire e non posso prenderlo bucchi e prendimi salvami arrivo dove ca... non ci sei non ci credo e non ci sei toccava che diamo a prendere il martello no ti porto giù ma perchè io li porto giù? perchè sono così pesante? dai piccoli non vieni dove mi fai però di cosa? quello di blu, cioè blu si certo verde mi sa che questo qua quello blu ah questo qua che è giù? ah no questo lo vi qua no no questi qua li 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 li? o no? comunque è... ma... di me a rifarlo perché? mi piace pensavo rifarlo in senso.... me li dai ciao taddio picchami ahio, si c'era tutto vai, prendi il mattello e picchia perché? aspetta dai, dai, vai ok no, devo fare 5 volte così adesso no Salsa basura qui è tutto tuo perfetto e fuori i coglioni anche se non so perché dice prendete quel male di turagano no non morire così prendi tu e liberi cioè faici così Gesù Cristo e mai se sto da lui e beh ti libero ma no cioè sono il mio scatola salsa basula ah lì devo passare sotto camhere eh ma aspetta devo fare il tec e cosa devo fare? devi bucare qua ah ok si colpite il colpo ah si colpite il colpo non ho capito il coniglio sono visto con me e tec tec ok vai perfetto dai e andiamo e pensa salga basula perché è il capello salga basula dai qua si ok allora questo tuo ah colpite il coniglio devo stare qua ah ok dai mi scappò mi scappò un colpo ti è preso lo stesso eh aspetta ecco avrete arrivo ok è già aperto è già aperto è già aperto ahia ma si colpo no orca vai Non ci credo Coniglio Ok Oh, bravo Abbiamo capito, colpite il coniglio Dai Andiamo a picchiarlo Andiamo Perfetto Tec Eee Salsa Besiù Mi sto rompendo i coniglioni di questo tizio No, due volte colpite il coniglio Colpita il coniglio Oh, bella questa Ah, la combo Il triplo Tipo sciottore Eee A posto Adesso Tizioni Ciao No, Duffy No, no Ma porca Che cazzo era? Tu stiflash Ma lei Perché è in Arabia? Magnifico Non abbiamo tempo da perdere un individuo Ma tu Duffy E' la gente 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 Abbiamo senza ingredienti per andarci Ma i meteori ti hanno distrutto il mondo Abbiamo senza ingredienti per andarci Davvero? Si Che culo Aspetta, aspetta, aspetta Ci sarà qualche ricompensa qui in mezzo Si, si, si Maia E' la gente E' la gente In nulla più Max Maia E' la gente Guarda il villaggio sulla spiaggia Guarda il villaggio sulla spiaggia Guarda il villaggio sulla spiaggia Non era Gregnici? Si, non so perché Si, non so perché Si, andava a vedere il suo spiaggia Vai a vedere il suo spiaggia Mi sa che dovrebbe avvenire il zoom Sì Si Sì, è vero Gregnici Era araba, attenzione Si avanza come Come gli arami Quindi anche per questa puntata è tutto Da Eric e Omar Ciao 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 ciao